Tu non te li hai pigliato troppo. Mio fratello ha campato una bella vita. Non ha visto bene che è ferma? Te l'ha già ricera. Sia più bella cosa che puoi sperare. Tu ti trattieni ancora a torno per qualche giorno. A quando partete per l'America, tutti quelli che pensavano di tornare a casa. A quando avrete Napoli dall'Arioplano, mi sono detto tutto eccitato. Che ti aspettavo? E l'aria di cosa? Non lo so più. Fino anche in Dachese di San Gennaro, o tu, ci è stato pregato per mio padre se stavano carte di hamburger e munnezza per terra. Io non credo che la munnezza che ti ha fatto cagnare pensiero. c'è stata una femmina. E se è così tornata in una casa a due esse? O tu eri tuoi figli e le hai fatte? E se la moglie era robossa? Soprano. Ma isso non lo sape. Ma tu te la fai? No. Non sono manco sicuro se essa l'ha capita. Ma? Non l'ha già mai data nemmeno un vaso. Meglio così, allora state lontano. Non è successo ancora niente. Non so se ci riesca. Mi la voglio bene. Fus asciutto pazzo. In vita mia, oggi fatta tanta stronzità, ma non mi ha mai fattuto la moglie che era robossa. Lo vuoi sapere perché? Lo sai perché? E dimmelo, non ghi attorno a che parole. Perché io sapevo che se gli se la purava macerevo. E il bosso è un bene sempre a sapere. Pronto? In un momento. L'avvocato mi ha da parlare. L'unico mezzo sia voi di acciare il mio marito. E sto saggio. E allora? Un po' stronz. Avvocato Zeni. Pronto? Come state? Come on in. So, how is your mother's apartment coming? Ari's uncle Zio finished the framing. Ma now, the shirok, it's wet on the bottom. There's a leak maybe in the foundation. My father is a contractor. If you want, I can have him take a look at it. He is free, I think, tomorrow afternoon. That would be a huge relief. Hmm. Hmm. What smells in this house? Marron, it's like the smell of heaven. Homemade scones. my son loves them. Here, try one. They are just out of the oven. Thank you. Now. Hey, Tony. Hey. Yeah? Yeah. Hmm. Ocean Club at Paradise Island. We live tomorrow for three beautiful days. Tomorrow? Mm-hmm. I don't know what short notice, but the deal came through. We got a view suite, first-class plane tickets. Hey, ask me a favor. What? I don't know. Um, A.J., school? He's not old enough to spoil himself now. I saw how jealous you were when I left for Florida. My mother, Tony, with the skin condition, just the time it's gonna take to pack. To pack. I'm a wait outside. I know she's my wife and the mother of my children and all, but let me tell you something. She can be a moody bitch. I never thank you for helping me. That's okay. You're a very special woman. Have you thought about flooring yet? not really, no. Hey, my window port, that's obvious. Speak English, for Christ's sakes. Well, then, we should go to Colatile, then. They have everything. I would love to go with you there. Great. It's a date, then. Good. It's a date. Got my drink, a little dancing. Come on. 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 You want to go upstairs? That's okay. Doug, I got Tony Soprano here. He was asking if the chopper's available. I know. I'm going to take a piss. Oh, yeah. Oh, it's on the reason. What the fuck you do? He's standing in the closet. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.